Sosato, Flot, va a cercare Laurenzano, va in testa Sbertoli, pipe di Daniele Lavia, Canella tiene a muro, grandissima copertura di Laurenzano, Micheletto, Murato! Per agevolare l'ingresso di Podraskanin, Gardini su Laurenzano, primo tempo proprio di Podraskanin! Per ora spesso l'obiettivo è stato Zenger, in questo caso invece va su De Smet, Saita apre il gioco per Petkovic, sulle mani di La Via Toccanelli, Micheletto arriva ad alzare, preciso, proprio per La Via, pallonetto, spinto in mezzo al campo! E dice la sua panchina, se ne fa un altro trento, fermiamo il gioco, 20-19, Podraskanin questa volta cambia e va su Zenger, palla dietro, sempre per Petkovic, uno contro uno! Ottima scelta di Saita che smarca bene Petkovic forza sulla via, ricezione staccata, complicata, Laurenzano con una grandissima alzata per la via, Zenger ci arriva in tuffo, legge la situazione, 8 per Petkovic! Mamma mia che muro di stress con l'Easy Nats, cancella totalmente l'opposto di Padova, ma un applauso! E di 3-19 Podraskanin, De Smet, palla al centro di Corosato, in qualche modo Micheletto, Kaziski va in 4, dalla Via! Muro di Padova, 23-20! Takashi forte su Micheletto, Sberto li va in 4, da Kaziski! Takashi prova il recupero in tuffo, per un pelo non ci arriva! Podraskanin, in corsa breve, servizio potente sull'Easy Nats, e ricezione slash, rigore! Scusate, servizio ovviamente su Gardini! Questa volta cambia e va a flotte l'Easy Nats, su Zenger! La palla va in 4, da Gardini! Money out, su Micheletto! Almeno uno dei due attaccanti di Trento! Micheletto tiene, Sberto li, pipe! Per lo stesso Micheletto! Perentorio attacco! Posta in palio, molto alta la Chione Arena! Petkovic, forte su pace, palla staccata! Micheletto va dalla via, contro il muro a tre, colpo lavorato! In qualche modo ci arriva Padova in difesa, ma la palla torna nella metà campo di Trento! Sberto li va in 4, da Kaziski! Che palla! Kaziski ma Lorenzetti ha fatto molto ridere perché dopo questo attacco di Kaziski si è girato! E la Biale ha detto, Sberto li al servizio! Gardini, ricezione a filo, Saita come può! Contrattacco affidato a Kaziski! Diagonale imprendibile! Sulla Chione Arena che spinge i bianconeri! La via Avasun e Smet! Saita va in 4, da Takashi! Difeso dalla via! Sberto li! In 4, da Kaziski! Diagonale del campione! Il cuore ha crozato sulla via, anzi sul Micheletto, primo tempo di Podraskalin! Perfetto l'attacco del Potkei! Fortissimo su Takashi! La palla va in 4, da Desmet! Palla un po' troppo a filo e Desmet non passa! Murato da Sberto li! Kaziski fortissimo su Zenger! Saita va in seconda linea, da Petkovic! Pace fa un miracolo! Contrattacco per chiudere il match affidato a Micheletto! Invasione e money out anche di Padova! Partita che si chiude qui!